Il regime forfettario rappresenta un'opportunità sicuramente molto importante per l'inizio di un'attività imprenditoriale, sia essa di libero professionale come ad esempio un architetto, un geometro, un avvocato eccetera, ovvero un'attività di natura commerciale, si pensi a tanti che cominciano attività di e-commerce ad esempio, utilizzando lo strumento del regime forfettario quale strumento di partenza per ottenere un risparmio fiscale. A proposito del regime forfettario, questo è un video che tratterà delle operazioni effettuate con l'estero da parte dei contribuenti forfettari. Se vuoi sapere invece di più sul regime forfettario, in descrizione ti indicherò un link su un altro video che ho preparato tempo addietro riguardo appunto il regime forfettario. Sono l'avvocato Carlo Alberto Micheli e ho realizzato questo video in collaborazione con MyAccounting.it e ContiPronti.it che sono sostanzialmente due piattaforme di contabilità online. In questo video andremo quindi a parlare e a trattare di quali sono gli adempimenti e le formalità da rispettare da parte dei contribuenti forfettari che operano con l'estero. Operano con l'estero si intende sia in termini di acquisti, ovvero importazioni, oppure di prestazioni di servizio rese, ovvero di esportazioni. Il regime forfettario, come già sapete, comporta in sé una serie di vantaggi. Tra questi sicuramente i più importanti sono l'esonero dall'applicazione dell'IVA, l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili, l'esonero dalle liquidazioni IVA, infrannuali, annuali, blacklist, spesometro eccetera eccetera. Quindi una serie di vantaggi molto utili per il contribuente che decide di partire con il regime forfettario. Nonostante questo il contribuente forfettario dovrà comunque detenere e conservare le fatture di vendita e le bollette doganali, mi raccomando le bollette doganali in caso di importazioni vanno sempre conservate, certificare i corrispettivi di vendita attraverso gli scontrini oppure le ricevute fiscali, integrare la fattura ricevuta con l'aliquota IVA nelle operazioni cosiddette di reverse charge che avuto riguardo alle importazioni andremo proprio a trattare in questo video. Insieme a tutte queste agevolazioni vi sono come detto delle formalità da rispettare quando si parla appunto di operazioni effettuate con l'estero. Io ho preparato una serie di slide che mostrerò in questo video per sintetizzare e schematizzare e rendervi quindi più semplice l'espletamento delle formalità e soprattutto la comprensione di queste formalità così che voi possiate poi interagire con il vostro consulente e segnalare lui le operazioni che sono state effettuate con l'estero tempestivamente. Perché a volte accade che il contribuente forfettario dice vabbè ma tanto le mie scritture contabili sono semplici, vado dal commercialista una volta l'anno e li porto i documenti. In realtà no, nel caso in cui siano effettuate le operazioni con l'estero sarà necessario avere uno scambio documentale molto veloce rispetto all'operazione stessa, nello stesso mese perché poi vedremo appunto nel corso del video che l'IVA andrà versata, in caso appunto di servizi ovvero di importazioni sopra un determinato volume, entro il 16 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione. Sintetizziamo quindi attraverso il presente schema. Quando parliamo di disciplina applicabile al regime forfettario, prima di effettuare qualsiasi tipo di classificazione dobbiamo distinguere tra operazioni intra-Unione Europea oppure operazioni extra-Unione Europea. Una volta che abbiamo diviso le operazioni intra-Unione Europea ed extra-Unione Europea andremo a dividere le operazioni in acquisti e vendite e a loro volta se si tratta di acquisti e vendite di beni, ovvero acquisti o vendite di servizi. Come avete visto in questa slide già andiamo a effettuare una prima classificazione, quindi è molto importante individuare la natura dell'operazione. È un'operazione effettuata con un soggetto passivo, quindi chi vi ha emesso la fattura oppure la persona alla quale avete emesso la fattura, ha sede nell'Unione Europea oppure ha sede fuori dall'Unione Europea, quindi un'operazione ex-Unione Europea. E la fattura che è stata emessa oppure che è stata ricevuta riguarda l'acquisto di beni o di servizi. Questa è la prima classificazione che dobbiamo effettuare al fine di individuare quella che è la corretta disciplina applicabile. Partiamo quindi dal punto più importante, è di solito la casistica più comune, che riguarda appunto gli acquisti di beni sul territorio dell'Unione Europea. Come potete vedere dalla slide, gli acquisti e cessioni di beni intra-way da parte di un contribuente forfettario hanno determinate caratteristiche. Partiamo da quella più semplice che trovate sulla destra della slide, la cessione, quindi quando voi effettuate una vendita ad un soggetto estra-Unione Europea. In questo caso non si tratta di una cessione intra-way, ossia cessione intra-way è il termine giuridico che si dà all'operazione, e quindi basterà normalmente mettere una fattura come per una qualsiasi cessione interna, ossia senza l'addebito dell'IVA. Una fattura normale, come se questa fattura fosse messa ad un soggetto passivo avente sede sul territorio dello Stato. diverso è invece quando si tratta di acquisti. In questo caso esiste una prima soglia identificativa, che è quella dei 10.000 euro. Quindi, fin tanto che io acquisto 10.000 euro di beni sul territorio dell'Unione Europea, non sarà necessario configurare tale acquisto come acquisto intra-way, e quindi l'IVA si paga nello Stato UE del cedente. Se invece io comincio ad acquistare beni per un importo superiore a 10.000 euro, a questo punto siamo in presenza di un'operazione di acquisto intra-way, e quindi sarà necessario da parte del contribuente forfettario l'iscrizione al VIES, l'integrazione della fattura estera con il meccanismo del River Charge, e il versamento dell'IVA entro il 16 del mese successivo. Quindi, voi contribuenti forfettario, tu contribuente forfettario, non dovrai ovviamente preoccuparti di iscriverti al VIES, di effettuare la registrazione in River Charge, però devi sapere che nel momento in cui i tuoi acquisti supereranno questo volume di affari, sarà necessario calcolare oltre a quel prezzo l'iquota IV al 22%, e quindi magari potrebbe cambiare il business plan e la politica di prezzi che inizialmente avevi adottato. Per quel che riguarda invece le vendite, come detto nella slide, non vi sono operazioni da fare. Essendo il regime forfettario non hai l'obbligo di IVA e quindi il pagamento dell'IVA, la fattura la andrai a emettere come se tu emettessi la fattura ad un soggetto sul territorio dello Stato. Vediamo adesso cosa invece succede in caso di servizi. È importante questo aspetto per tanti in forfettario che si occupano di attività online. In caso di servizi resi o ricevuti in ambito dell'Unione Europea, dobbiamo quindi andare a distinguere questa cosa molto importante. Allora, se io effetto un servizio da contribuente forfettario nell'Unione Europea, così come per le cessioni nell'Unione Europea, andrò ad emettere una fattura senza l'addebito dell'IVA. Una fattura normale. La cosa cambia invece in caso di servizi ricevuti. Sarà in questo caso necessario, seguite la slide, integrare la fattura estera attraverso il meccanismo di reverse charge e quindi versare l'IVA collegata a quel servizio. Quindi l'IVA è quella del territorio italiano, 22%. Entro il 16 del mese successivo e presentare il modello intra. Una cosa molto importante. Rientrano nei servizi ricevuti, quindi in questa casistica, le fatture che avete ricevuto da Facebook, pensate Facebook Ads, Google Adsworth, pubblicità su YouTube, Apple, Adobe, Amazon per quanto riguarda le commissioni e la logistica. Quindi in questo caso, voi contribuenti forfettari, dovrete ricordarvi di indicare al consulente attenzione, ti segnalo, ti sto inoltrando per email, una fattura per servizi ricevuti da un soggetto estero. In qual caso voi dovete sapere che il prezzo che il soggetto estero vi farà dovrà essere ricaricato dell'IVA 22% che verserete il 16 del mese successivo. Fatta quindi la panoramica sulle operazioni inerenti l'Unione Europea, andremo a vedere adesso le operazioni con soggetti extra Unione Europea. Come vedete anche questa volta dalla slide, quanto alle vendite, il regime forfettario emette sempre una fattura senza IVA, riportando un'apposita causale. Ora non stiamo a indicare qui le causali. L'importante è sapere che se voi vendete o prestate un servizio fuori dall'Unione Europea, questa fattura sarà sempre e comunque senza IVA. Le cose cambiano, così come per le operazioni in Unione Europea, in caso di acquisti. Quanto agli acquisti, quindi per i forfettari valgono le regole generali. Che cosa significa? Che valgono le regole che si applicano a qualsiasi tipo di contribuente, contribuente ordinario in questo caso. Dobbiamo dividere i beni dai servizi, leggendo la slide, in cui in caso di acquisto di beni, le formalità IVA e Dazzi verranno assolte in sede doganale. Quindi chi già di voi, ad esempio, compra dalla Cina beni che poi rivenderà sul mercato italiano, sa che dovrà conservare la fattura del venditore, la fattura dello spedizioniere e la bolla doganale, perché in tutti questi documenti sono assolte le imposte da versare, compresa l'IVA. In caso invece di acquisti di servizi, non c'è la dogana, si deve quindi procedere sempre all'emissione di un'autofattura con conseguente versamento dell'IVA. Non sei, anche in questo caso, tu l'obbligato a fare l'autofattura. L'autofattura non è un altro documento dove si scrive autofattura. L'autofattura è un procedimento contabile che il tuo consulente dovrà effettuare per farti assolvere in maniera regolare l'IVA. Quanto alla panoramica, quindi, che abbiamo visto riguardo alle operazioni estere, io ti ricordo che in descrizione a questo video potrai trovare un link dove poter scaricare le slide che in questo video ti sono state mostrate. Inoltre potrai richiedere una consulenza con myaccounting.it per la gestione della tua contabilità oppure richiede una consulenza specifica con me. In definitiva è importante ricordarsi quindi una cosa fondamentale. Il contribuente forfettario spesso rispetto alla tenuta delle scritture contabili ha meno obblighi, non spesso, sempre. Quindi è importante sottolineare ogni volta se vi sono delle fatture in entrata soprattutto rese da un contribuente in Unione Europea o fuori dall'Unione Europea e segnalarla sempre al proprio consulente così da far adempiere regolarmente gli obblighi relativi all'IVA. Se ti è piaciuto questo video se vuoi vederni altri simili rispetto a questi argomenti ti invito a lasciare un commento oppure a cliccare un like sul video ed iscriverti al mio canale. A presto! Grazie!